Io sono la responsabile dell'ufficio educazione cittadinanza attiva di Progetto Mondo e quindi ecco ci occupiamo nella mia area un po' di tutte quelle attività che l'organizzazione mette in opera sia all'interno di Verona e provincia ma anche a livello italiano ma anche a livello europeo con progettualità e iniziative che coinvolgono partner italiani ma anche in molti paesi dell'Europa. È andata molto bene, il flash mob o presidio statico così come ci hanno detto di chiamarlo perché in questa situazione di pandemia abbiamo cercato di fare poco movimento però ci siamo stati, è stata un po' la conclusione ed è stata una bella conclusione che è iniziato nel 2019 che si chiama Odiare non è uno sport che ha l'obiettivo perché è quello un po' che poi portiamo avanti come associazioni nel nostro lavoro quotidiano di conoscere e contrastare l'Hate Speech nei contesti educativi e in questo caso, in questo progetto anche nei contesti sportivi. Per l'Hate Speech i significati dell'Hate Speech ci sono varie interpretazioni, italianizzando il discorsi d'odio, discorsi d'odio che non sono legati soltanto a una, come posso dire, legati a un colore della pelle o a un credore religioso ma è molto più subdolo, è legato subdolo e che influenza molto i giovani perché i giovani hanno poca consapevolezza di quanto possano pesare le parole, anche dette in maniera gioviale a un compagno perché lo si ritiene tale, lo si ritiene un amico però lo si apostrofa con delle parole che possono essere pesanti e che possono avere delle conseguenze alle volte altrettanto importanti. Per cui quando parliamo di Hate Speech vogliamo intendere tutto quel linguaggio che non include, che esclude l'altro, che possano poi essere pesanti perché si apostrofa in maniera anche violenta ma anche tutto quel linguaggio che ormai è diventato quasi normale nelle nostre conversazioni. Il lavoro che abbiamo fatto con i ragazzi è stato proprio quello, il peso delle parole, le parole che possono essere pesanti come pietre, le parole che possono invece far sentire accolto, accolta la persona ma anche le parole neutre quando ci esprimiamo in modo che l'altro non sa se viene accolto o meno. E quindi è stato un lavoro molto importante quello di rendere consapevoli i ragazzi che il linguaggio fa la differenza. Devo dire che non è stato un caso quello di concludere idealmente il progetto di Arron Uno Sport il 19 marzo. Proprio perché volevamo essere un po' un'iniziativa su dieci piazze italiane che lanciassero un po' la settimana contro il razzismo, la giornata contro il razzismo. La giornata è il 21 marzo ma per tutta la settimana dal 21 al 27 marzo in molte città italiane ma in tante altre piccole modalità, associazioni, enti, istituzioni cercheranno di essere presenti a dire no al razzismo e non legato soltanto al tema del colore della pelle, ripeto, a tutto ciò che separa, tutto ciò che esclude. E per noi lavorare sul tema della lotta alla discriminazione diventa sempre più importante per cui come progetto Mondo è uno dei temi, dei grandi temi che portiamo avanti la lotta alla discriminazione ma anche con un pensiero pedagogico di lotta alla discriminazione e contro il razzismo. Quindi è molto importante perché le iniziative che portiamo avanti sono di carattere formativo con docenti, allenatori, associazioni, educatori, ma anche educativo. Soltanto con il progetto Odiare non è uno sport abbiamo incontrato 600 ragazzi e facendo parte anche di una realtà venonese come quella del cartello nella mia città, nei suoi stranieri, abbiamo potuto fare una proposta per la settimana contro il razzismo. Per esempio la settimana prossima più di 1200 ragazzi potranno vedere gratuitamente su una piattaforma un piccolo cortometraggio dell'autore Minella, che è stato finanziato dalla Fondazione Conil Sud, dal titolo Il potere dell'oro rosso, che è una sorta di piccola commedia ironica proprio sul razzismo, sui pregiudizi, sui preconcetti che l'uno può avere dell'altro. È ambientato in una campagna barese ed è molto molto divertente, ma altrettanto interessante per approfondire il tema. Il progetto Mondo di fatto in questi 54 anni di età lavora proprio per l'inclusione e attualmente siamo presenti in molti paesi dell'America Latina e dell'Africa proprio con progetti di inclusione, inclusione quando parliamo del lavoro con le donne, con i cafetaleros peruviani, quando parliamo di ragazzi che hanno infranto la legge con un lavoro sulla giustizia riparativa. Lavoriamo in Marocco sulla migrazione responsabile contro la radicalizzazione delle idee. In Burkina Faso quando cerchiamo di includere in una gestione sana dell'alimentazione mamme e famiglie o quando in Mozambico cerchiamo di lavorare con le scuole professionali perché possa dare una formazione adeguata ai giovani, perché possano entrare nel mondo del lavoro preparati. Quindi diciamo che dal punto di vista proprio istituzionale della nostra mission l'inclusione fa parte, è una delle parole chiave dell'organizzazione. In Italia, come vi dicevo, sicuramente un filone è la lotta alla discriminazione. Lavoriamo molto anche sui temi degli obiettivi di sviluppo sostenibili dell'Agenda 2030 ma con un'ottica molto interessante che abbiamo visto che aiuta a far capire a docenti ma anche ai ragazzi la complessità che è quella la lente delle diseguaglianze delle migrazioni perché ogni obiettivo che ci si pone deve essere guardato nell'ottica più globale e per noi parlare di diseguaglianze di migrazioni ragionando un po' su quella che è l'Agenda 2030 ci ha aiutati a rendere più consapevoli della complessità. Ecco, un po' la parola chiave proprio della mia area, del nostro ufficio di educazione e cittadinanza attiva è proprio quella di educare al cambiamento e educare anche a capire meglio quello che è la complessità.